Sono davanti alla Pieve Romanica di San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, e nella lunetta sopra al portale d'ingresso fa bella mostra il busto di San Lorenzo, patrono del paese, l'opera originale di Donatello, ma questa è soltanto una copia. Infatti l'opera ha avuto un'esistenza travagliata, poi è stata riscoperta dalla critica soltanto nel 2003. Donatello aveva creato per il portale maggiore della Pieve, più importante del Mugello, a 40 km a nord di Firenze, nel 1440, negli stessi anni in cui creava il famoso David Bronzeo, questo busto rimasto nascosto, poiché fu prelevato dalla sua posizione originale e sostituito con una copia nel 1888, quando il noto antiquare e collezionista Stefano Bardini immise l'opera sul mercato antiquario internazionale restituendo alla Pieve la copia, quindi il falso, che ancora vediamo. L'opera originale finì nelle collezioni dei principi Linkenstein di Vienna, come si vede in una foto del 1910.